Ciao a tutti qui SuperLupen777 e benvenuti in questo video di aggiornamento, se così lo vogliamo chiamare, sul torneo Neverused che inizierà l'8 di ottobre. Le iscrizioni finiranno domani perché io sto facendo il video al 30 di settembre, quindi domani 1 ottobre finiranno e volevo chiedervi un favore. Visto che adesso riflettendoci non so come farete a scambiarvi i codici amico perché alcuni ho scoperto che non hanno facebook mentre altri sono soltanto su facebook e non su youtube, quindi è un po' un casino. Vi pregherei di dirmi entro appunto l'8 i vostri codici amico, anzi entro prima dell'8, entro fate il 6 di ottobre, dirmi i vostri codici amico, Cos'è almeno? Ve li scrivo, cioè ve li scrivo in un video, ve li faccio vedere su facebook in modo tale che arrivino tutti e ve li scambiate da lì, cioè li prendete da lì a seconda dell'avversario che vi capiterà, io vi darò il codice amico e niente, vi arrangiate e poi ogni volta farete la lotta e comparirà il codice amico del vostro avversario. Niente, volevo soltanto dirvi questo e che ho scelto il premio del torneo, ma questo ve lo dirò in seguito. Quindi, se questo video vi è piaciuto, niente, non vi può essere piaciuto questo video, che cosa sto dicendo? La forza dell'abitudine. Spero che questo video vi sia stato utile e cercate di farlo, ecco, perché vi semplificherà la vita, altrimenti non so come farete a scambiarvi i codici amico. Ciao ciao!